A questo proposito lei, se dico bene, ha parlato dei ricercatori di speranza e mi fanno venire in mente anche un altro esempio che è presente nelle sue lezioni di impresa, di cui vorrei chiederle che ce lo possa accennare, il suo incontro con Nicolino, con questo contadino che giunto anche a una certa età pensava e faceva ancora in forma disinteressata. Nicolino non era un contadino, era un muratore, siamo in un paesino dell'alta Franciacorta, la collina della Franciacorta dove noi avevamo una casa e lui aveva un campo, era anche contadino ovviamente, abbastanza vicino a casa nostra e noi da tempo dicevamo a Nicolino se ce lo vendeva così arrotondavamo la nostra proprietà, lui era un muratore andato in pensione, 70 e qualcosa anni, che coltivava il suo campo e lui un giorno mi disse, no Marco io non ti posso vendere il campo perché se no cosa faccio, io mi diverto a fare, però se me ne trovi uno vicino magari più vicino a casa mia perché lui abitava in una frazione un po' distante possiamo fare il cambio e io giro di giro ho trovato un altro campo molto più grande quindi glielo ho dato, abbiamo fatto questo scambio, però era un campo abbandonato da anni, chi sa un po' la campagna sa che un campo basta che sia abbandonato due anni alla faccia degli ambientalisti diventa un disastro, pieno di rovi e pieno di rovine perché sono gli uomini che fanno la bella campagna e non il padre eterno e facendo questo scambio e lui incominciò a lavorare tutto inverno e in primavera il campo era già ripristinato e un giorno io passo su un'argine sopra il suo campo e vedo che lui sta piantando delle piante di olivo, lui ha 72, 73 anni perché un pianta di olivo dia frutto ci vogliono allora, adesso mi hanno detto che si è accorgiato il tempo ma allora si diceva ci vogliono 20 anni quindi era un po' e io ho avuto una battuta brutta, tipatica, mi è venuta fuori e mentre la pronunciavo mi rendevo conto che era dicevo Nicolino che fai, che fet in dialetto pianti gli olivi, come dire alla tua età non si piantano più gli olivi no? e lui mi guardò serenamente e mi disse e Marco prima o poi bisogna incominciare, per questo io l'ho recepito nelle mie lezioni d'impresa che io ho ricevuto da altri, in quel caso ricevevo da Nicolino e Nicolino in quella lezione mi diceva bisogna fare le cose che bisogna fare, non personalizzandole, non legate al rapporto all'età o al non età, ma fare quello che la vita, la storia ti chiama a fare e io questa l'ho usata molte volte questa lezione di Nicolino con quegli imprenditori che avviandosi verso la fine, la parte finale della loro vita allora incominciano ad essere demotivati o non capiscono bene cosa fare per il futuro, il futuro non è qualcosa che ti porti con sé, però non è qualcosa che lasci e allora il compito di lasciare gli olivi c'è a 30 anni, a 70, 80 fino a quando si può, questa è una grande lezione d'impresa che io cerco di divulgare nel mondo imprenditoriale, viene da Nicolino, muratore di Monticelli Brusati Alta Franciacorta grazie a tutti